Cari amici, Shian, Shidoin, Sensei, tecnici della Buon Jiu Jitsu tutta, buongiorno, la nostra vecchia Europa, e il Gaglia in particolare, è sotto pressione per via del coronavirus. Siamo in linea per una guerra infinita contro un nemico suddolo, invisibile, terribile, che ci sta cambiando la nostra vita. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, anche l'attività internazionale deve trovare un nuovo spiraglio. L'emergenza, l'epidemia ci ha obbligati a cambiare le nostre abitudini in tutto il mondo. Ogni Paese ha adottato misure molto determinate per bloccare la presenza di questo virus. L'Italia è stata fortemente penalizzata e dobbiamo inventare giorno per giorno il modo per trovare gli spiragli giorni per il nostro futuro. La regola del numero 4 per i giapponesi è maledetta. Il 4 è il numero maledetto per i giapponesi, ma non solo per il gioco. Tant'è vero che il kanji viene comutato da San in Yon. Questo per dirvi la problematica. Noi abbiamo 2-4. Parliamo di noi. L'appuntamento di Budapest dal 2 al 5 di aprile viene posticipato a una data più consona. Abbiamo cercato, in particolare il nostro delegato per l'Ungheia, Sean Thomas Maragai, di mantenere vivo l'appuntamento, trasformandolo in un seminario internazionale per fare posto agli ospiti australiani guidati da Tom Bellamy, dagli irlandesi del chairman e coordinatore tecnico internazionale David Tony, dal Kuwait e così tantissimi altri paesi d'Europa che diciamo almeno 20 delegazioni avevano confermato. Purtroppo non ci sono alternative. Dobbiamo accettare questo fatto e con un sorriso andare avanti. Sono triste, bloccato da un virus dopo 44 anni di battaglie per far grande la nostra federazione nata con Dai Soke Robert Clark nel 1976. Anche in in relazione a tutti coloro che per motivi diversi, più o meno plausibili, ci hanno lasciato e hanno fatto nuove e hanno preso nuove strade. Volevamo fare qualche cosa in più in questa occasione. Volevamo dare una sorta di ricompensa morale a tutti i nostri istruttori. Erano pronte le certificazioni europee secondo la legge del Parlamento europeo del 4 ottobre 2017 per l'Euretics Ezia. In accordo con il professore Giovanni Gordiani eravamo pronti a certificare tutti i nostri tecnici. Perché? Perché la vuo jiu jitsu è stata riconosciuta ufficialmente dal Parlamento europeo e quindi come tale noi possiamo garantire il passaporto europeo per quanto concerne la pratica, l'insegnamento e la conoscenza del nostro jiu jitsu. vi ringrazio, mi auguro prossimamente di risentirvi per darvi una data più o meno avvicina. Come diceva Confucio, noi non possiamo orientare il vento, ma noi possiamo orientare le nostre vele. E che sceghere Ungheria. Arrivederci, a presto.